Abbiamo avuto una serata veramente formidabile, scoppiatante, con un oratore incredibile come Alessandro Martoni, che raccontava Mirko Vucetich. Una serata, quella di gennaio, dedicata a Mirko Vucetich, artista, architetto, eclettico, sperimentatore, e ora tutto pronto per il prossimo appuntamento. Il prossimo evento, appunto, della nostra rassegna 300 storie popolari, venerdì 23 febbraio, ore 18.30, presso il teatrino Collezione Custenaro, avremo l'artista Toni Bernardi in dialogo con la dottoressa Eleonora Zampieri e il dottor Marco Maria Poloniato. Una serata dedicata all'artista Antonio Bernardi, nato a Marossica nel 1946, formatosi nella Scuola d'Arte di Nove. Noi in questa serata cercheremo di accendere la curiosità. La curiosità nei confronti di diversi linguaggi, dalla grafica alla fotografia e in particolare alla ceramica, che è stata la mia passione fin da giovane.